La contesa politologica sul terzo mandato ha perso il suo charme, ammesso che ne avesse l'assunto secondo il quale non fa bene alla democrazia rappresentativa, la permanenza per più di otto anni della stessa persona in ruoli di comando applicato al caso De Luca somiglia molto a quello di Giovanni Giolitti, le leggi si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici, fosse stato De Luca più simpatico e organico, i vertici del Nazareno avrebbero certamente scelto la strada della interpretazione. Ora in attesa che parta la giostra tutti si mostrano abbottonatissimi, mentre neanche tanto sottotraccia De Luca continua a tessere la sua tela per rinsaldare il rapporto con gli amministratori ed estenderlo ad altri territori. La novità arriva da Avellino, nelle pieghe dell'eterna, forse inutile, disputa sul tesseramento, prima inquinato da Festa e d'Agostino, oggi probabilmente dallo Spirito Santo, la ex capogruppo del Partito Democratico Ida Grella e dunque l'ala del partito che si riconosce nelle posizioni dell'ex senatore Enzo De Luca dopo aver sottolineato la mancanza di democrazia interna ad Avellino e in Campania, dice in riferimento alle prossime elezioni regionali, dice testualmente De Luca forse non può fare a meno del Partito Democratico, ma certamente il Partito Democratico non può fare a meno di lui in Campania e nel Mezzogiorno e per evitare di essere mal compresa aggiunge, per quanto ci riguarda non si può che ripartire da De Luca, il problema non è quante divisioni elettorali possano schierare De Luca e Grella, è piuttosto il segnale lanciato all'esterno dove vi è invece un diffuso gradimento per il Governatore, i cittadini della Campania inversamente proporzionali alle bocciature definitive e sonore degli avversari da anni lo collocano stabilmente ai vertici delle classifiche di gradimento al tempo stesso e l'avvio di una strategia che porterà certamente grano in cascina al Governatore.